e quando lo sport la scuola si avvicinano penso che sia un momento un momento molto importante io sono nato nel mondo dello sport vivo nel mondo sport lavoro nel mondo dello sport e naturalmente prima di essere arrivato qua ho dovuto studiare sono stato studente e poter affiancare la nostra società c'è la palacanista quattro torri all'istituto inaudi e sicuramente penso che sia un'iniziativa molto importante con tanto orgoglio con tanto piacere oggi presenteremo questo nuovo accordo di collaborazione con un importantissimo istituto cittadino storico questo accordo coinvolge ovviamente le due realtà la quattro torri è l'istituto perché entrambe nella loro attività fanno qualcosa che si può benissimo conciliare con le due con le due attività noi ovviamente ci occupiamo di sport a tutti i livelli dai piccolini anche agli anziani perché abbiamo dei corsi e queste cose pensiamo che possano benissimo coincidere con quella che è l'attività di base del vostro istituto a partire dal supporto tecnico che potremmo dare nella vostra nella vostra scuola per fare attività ma coinvolgendovi anche con le vostre iniziative con le con gli studi che fate con queste con questi programmi di riprese televisive di monitoraggio e quindi benissimo si possono assemblare e quindi darci cioè scambiarci questa possibilità di interagire quindi è un servizio bellissimo secondo secondo me di cui noi usufruiamo ma anche voi credo che possiate averne un beneficio ecco questo questo è il discorso devo ringraziare Andrea che lui è l'ideatore diciamo di tutte queste iniziative non è mai non è mai sazio ha sempre la mente pronta sveglia per studiare ci aspettiamo anche un ritorno importante in termini di adesioni in termini di ore che potremmo fare in termini di coinvolgimento nei vostri confronti voi sarete contentissimi immagino di poter partecipare alle riprese alle interviste quindi anche un modo per entrare in un mondo che voi state approcciando che vi darà un'esperienza per poter un domani poter lavorare fare qualcosa dedicato sviluppandolo nel modo un po più professionale però come inizio direi che è un ottimo punto di partenza allora ringrazio innanzitutto la truppa dello student IG questa iniziativa è nata già all'inizio dell'anno scolastico in quanto abbiamo questo nuovo indirizzo nato quest'anno a scuola sport e inclusione per i nostri ragazzi vorremmo proporre delle attività in sinergia col territorio e in particolar modo ecco abbiamo contattato la società sportiva quattro torri per quanto riguarda la pallacanestro come sport di squadra inclusivo e la nostra proposta è stata accolta pienamente dalla società quattro torri che ringrazio e quindi dal ecco dovevano partire quest'anno l'attività poi purtroppo per via della pandemia della situazione emergenziale e siamo arrivati ora a maggio e quindi nel corso dell'estate e dei prossimi anni scolastici inizierà questa collaborazione stretta proprio diciamo per proporre ai ragazzi dell'attività in collaborazione con atleti squadre allenatori della società quattro torri palacanestro e in più per coinvolgere gli studenti appunto voi della troupe dello student IG e comunque della grafica comunicazione dell'istituto tecnico per quanto riguarda le diciamo interviste pre post partita e la costruzione di reportage non solo ecco per pre post partita della prima squadra delle quattro torri ma anche per eventuali interventi che la società farà sul territorio anche coinvolgendo magari l'istituto in Audi e poi speravamo anche appunto di poter mandare proprio i nostri ragazzi per esperienze di alternanza scuola lavoro a vedere ecco come funziona una società sportiva e abbiamo avuto anche qui la disponibilità della società quattro torri ecco quindi per tutte queste bellissime iniziative siamo qui oggi ecco Grazie a tutti, grazie a tutti.